E parliamo adesso del rischio sismico e prevenzione nelle case attraverso la campagna Io non rischio. Ecco i consigli del gruppo SAE 112 per essere preparati in caso di terremoto e caramità naturali all'interno delle proprie abitazioni. SAE 112 di Termoli, siamo con Antonio Sassoni, delegato di Trivento. Ci spiega la sua ONLUS? Noi siamo un'associazione ONLUS chiamata SAE 112, con i nostri volontari stiamo qui in piazza a spiegare la campagna sui terremoti nazionale della protezione civile denominata Io non rischio. Spieghiamo cosa fare in caso di terremoto prima e dopo e come mettere in sicurezza un'abitazione prima del terremoto, perché noi insegniamo logicamente a fare resilienza, resistenza contro il terremoto perché purtroppo viviamo in un paese che è l'Italia, ha alto rischio terremoti e stiamo qui a spiegare con questa campagna Io non rischio i comportamenti giusti da avere in caso di terremoto. Come bisogna comportarsi in caso di terremoto? In caso di terremoto buona pratica, prima di tutto non farsi prendere dal panico. In secondo luogo restare sotto un'architrave se stiamo in casa, se abbiamo la possibilità di uscire subito dall'abitazione e trovare i punti di raccolta che il comune con i piani di sicurezza e di evacuazione mette a disposizione. Se stiamo in un palazzo non prendere mai l'ascensore, non scendere mai le scale, aspettare che passa il sisma ma la cosa più importante è mettere in sicurezza le nostre abitazioni prima del terremoto chiamando un tecnico strutturale, un ingegnere strutturale che ci spiegherà se la nostra abitazione è a norma per metterla in sicurezza. Il nostro scopo è mettere a norma le abitazioni, quindi con il sistema bonus casa sicura noi cosa facciamo? Diamo gli incentivi, non noi logicamente, lo Stato, dagli incentivi per mettere in sicurezza le nostre strutture. Poi logicamente con la campagna Io non rischio noi spieghiamo durante il terremoto e dopo il terremoto i comportamenti.